Buongiorno, mi chiamo Alessio Pukin, vado nel liceo tecnico di Padre Savic. Tutti dovrebbero sapere tante lingue. Io so la lingua italiana perché sono nato là e adesso vivo qua in Serbia e studio serbo, inglese, tedesco e così. Mi ha aiutato sapere l'italiano perché posso parlare con molte di più di gente e vorrei dire a tutti i miei amici che vanno in questa scuola che dovrebbero, pure loro, imparare qualche lingua in più perché non può fare male alla fine. Mi piace partecipare nei progetti qui a scuola e volevo dire perché si sta arrivando il sessantesimo complanno della scuola, volevo dire auguri a tutti. Hallo, sono Alexandra, sono 15 anni, mi sono 18-15 anni, ando in la Technica di Paolo Savic in Serbio e ando in la Klasse dell'2.15. La lingua italiana è importante nel parlare dell'entrottare a di l'entrottare 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 potete parlare con le persone e capire. Mi piace fare con le scuola di scuola, e presto sarà il 60e jubileo per notte. Grazie a tutti! Ciao Valentina, sono arrivati in SACA, andiamo all'estretto nella scuola, la Tecnica scuola Paolo Sabe, in un nuovo SACA. Voglio studiare a studiare, perché possiamo conoscere molte persone in cui possiamo insegnare sempre. Il mio matrimonio è slovenciato. Voglio studiare a studiare a studiare a studiare a studiare, perché sono in una scuola in altri Stati, e sono in un'altra scuola. Voglio conosciare molti persone. Voglio partecipare in diverse proieze, dove organizano la scuola. E perché sono più 60 anni in scuola, mi sono stata piaciata di 60 anni in scuola. Mi chiamo Anrika, e sono in una scuola. Io sono in una scuola in Russia, e ho studiare in una scuola, in una scuola 4-14. Io sono in una scuola in scuola. Io non so, perché ho studiare in Russia, e ho studiare in una scuola. Io ho studiare in una scuola in una scuola. E ho studiare in una scuola in una scuola. Perché hai più possibilità di leggere, per esempio, leggere una scuola, leggere una scuola, leggere una scuola. in una scuola in una scuola. E ho studiare in una scuola. Perché i nostri fanno... Io gli amare copia, e ho studiare in una scuola in una scuola e ho studiare in una scuola in Umaxetore. E ho studiare in una scuola. per te, per questo motivo è utile. Ho raggiunto l'inglese molto bene per l'internet e per la mia scuola. Il mio messaggio per te è sempre chiedere una lingua che ti piace davvero, che deve essere l'inglese, perché è molto ampio utilizzato nel mondo, ma anche qualcosa che sui vostri personaggi. È anche molto utile per le nuove lingue, perché di viaggiare, parlare con le persone, apprendere le culture, tutto così. Per i miei finali parole, voglio raccomandare i vostri progetti, credo che alcuni possono essere molto divertenti, soprattutto se siete interessati. E voglio ringraziare i miei scuoli per ottenere il 60e anniversario.